A Dispica da gennaio fino ad aprile verrà svolto il corso di allenatore licenza D. Per intenderci con lo superamento del corso si può allenare dalla terza categoria all'eccellenza, a promuoverlo l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Il nostro direttore Piero Giunta ne ha parlato con il presidente provinciale dell'Associazione Italiana Allenatori di Ragusa, Eugenio Sena. Ascoltiamo. Eugenio, la mia prima domanda di questa chiacchierata radiofonica è quella che ti aspetti. In che consiste il corso di allenatore licenza D? Grazie Piero per avermi invitato. Il corso consiste in 6 settimane dove si studia per 120 ore. In primis la materia cardine è la tecnica e tattica calcistica, però ci sono materie come la psicologia, la preparazione atletica, la medicina sportiva, regolamenti e carte federali. E' un corso che tutti possono accedere con un minimo di 23 anni. La scadenza è il 14 gennaio per presentare la domanda di partecipazione con inizio il 24 gennaio. Eugenio, ti chiedo come mai è stata scelta ISPICA? E' stata scelta ISPICA perché le delegazioni FIGICI di Ragusa e Siracusa hanno richiesto questo tipo di corso. Coverciano lo ha affidato a Ragusa e il delegato di Ragusa della FIGICI, ovvero Gino Giacchi, ha deciso come sede ISPICA perché a livello geografico è quella di intermezzo, è la città di intermezzo tra le province di Ragusa e Siracusa. Quindi sicuramente è un'opportunità importante per tanti ISPICA e comunque per persone che vivono nelle città limitrofe per andare a partecipare a questo corso. Sicuramente è un'ottima opportunità per un ragazzo o una ragazza di 23 anni che ha la possibilità di iniziare questo percorso da allenatore o da allenatrice e può farlo direttamente a ISPICA. In più è anche importante per chi attualmente sta allenando le categorie giovanili e vuole anche cercare di studiare, di approfondire e di avere una qualifica per allenare quelli più grandi. È un'opportunità importante perché viene fatto ISPICA e quindi speriamo che ci siano tanti ragazzi e ragazze volenterosi di iniziare un percorso del genere. Ti chiedo come nasce la passione di allenare? Sinceramente già da quando avevo dieci anni avevo l'obiettivo di fare l'allenatore di calcio. Poi sono stati importanti gli studi e le scienze motorie e le qualifiche, gli studi, gli approfondimenti che ho fatto con le federazioni. L'obiettivo è stato sempre quello di andare ad allenare all'estero e ho fatto svariate esperienze e quindi quello di avvicinarmi pian piano alle categorie più alte che si trovano sia in Italia che all'estero. E allora quali sono state le tue esperienze più importanti? Allora sicuramente partendo dalla più recente l'esperienza in Arabia Saudita come vice allenatore di una squadra della Serie A poi le esperienze in Inghilterra e anche in Cina e in Russia per la Juventus e infine anche quelle in Montenegro, in Ungheria e in Australia che sono state molto importanti. Ringrazio Eugenio Fena, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.